Non ci sono ormai più aggettivi per definire questa squadra che onestamente ci sta strabiliando tutti e ci sta facendo entusiasmare sempre di più da ormai tre mesi. Come ha detto Braia, sottoscriviamo il suo pensiero a questi ragazzi, non si può che fare i complimenti perché stanno facendo qualcosa di davvero importante. Sono stati a dir poco devastanti anche ieri sera contro un avversario che, attenzione, è un avversario importante perché il Potenza, per chi lo avesse dimenticato solo dieci giorni fa, era stato capace di andare a vincere al San Nicola di Bari. Insomma, una squadra che più va avanti, più vince e più convince perché ieri, nel momento della difficoltà, tutti noi ci aspettavamo magari un contracolpo, cosa che non c'è stata. Pur avendo fatto il Covid capolino a poche ore dalla partita, la squadra è venuta fuori dimostrando un grande collettivo, dimostrando che il lavoro di Braia sta dando i suoi frutti, dimostrando la qualità di alcuni calciatori cosiddetti gregari che sono stati a dir poco fantastici nel portare a termine questa partita contro il Potenza. E quindi, onestamente, dopo tre mesi, dopo questi 14 risultati utili consecutivi, per quanto mi riguarda, vi posso già dire che comunque vada, per me già sarà un successo, ma è chiaro che a questo punto l'acquolina in bocca ce l'abbiamo tutti, quindi questa benedetta Serie B vorremmo conquistarla. Lei bene fa in questa fase anche Piero Braia a togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa perché è lui uno dei vincitori, insieme ad Agostino, insieme a Disomma, di questo miracolo Avellino. Però attenzione perché il calcio è un bel gioco e lui lo sta a Braia rendendo bellissimo con le sue alchimie, le vittorie, insieme alla squadra. Il Covid però non è un gioco e quindi non è il caso di scherzare, soprattutto perché voglio fargli notare che ieri sera, quando nel solito soliloquio del dopo partita, ha lanciato una stilettata. Non so se probabilmente si riferiva a qualcuno dello spogliatoio che avrebbe portato fuori la notizia dei positivi oppure si è riferito a qualche giornalista che avrebbe fatto il suo dovere. Non ci interessa, in questo momento non è il bersaglio di Braia a proposito del Covid che interessa. Interessa far notare al tecnico semplicemente che ieri sera la partita è iniziata con un minuto di raccoglimento in onore di un ragazzo di 45 anni che problemi non ne aveva, ma purtroppo è deceduto per Covid, era il vice allenatore della Cavesa, quindi forse non era il caso, soprattutto ieri, di fare pretattica e di continuarla a fare sempre sui positivi o meno. Quello che voglio dire è che questa squadra che lui, Braia, è riuscita a costruire in maniera così stupenda, fantastica, può vincere tranquillamente senza fare pretattica. Forza mister!